Ed eccoci qua ragazzi con McFarlane Toys e le sue magagne, ecco a voi la Batmobile come doveva essere quella del film The Flash, ovvero fatta bene, opaca, col tetto del colore giusto eccetera eccetera, con anche il Batman incluso. Eccola qua ragazzi, confezione Gold Label naturalmente, quindi edizione limitata direttamente dal film dell'89, eccola qui, mi fa vedere un po' di contenuto come al solito, naturalmente la confezione è sempre uguale, comunque elegante, molto figa e più compatta rispetto a quella di The Flash, nonostante sia incluso anche il personaggio, ma direi di non perdere altro tempo e andiamo subito a vederla fuori dalla confezione. Ora ecco il contenuto della confezione, c'è il Batman, la Batmobile è come accessorio, il Batman ha solo questa basetta, non c'è neanche la card oppure mani intercambiabili purtroppo. Allora focalizziamoci prima di tutto sul Batman, eccolo qua ragazzi, come vedete a differenza di quello del pack ha il simbolo dorato, questo è quello del pack, eccolo qua, si differenzia per il simbolo dorato, questo è giallo più fedele al film, questo qui è dorato, diciamo un richiamo alla linea Kenner, mi ricordo benissimo che il Batman uscì con il simbolo dorato in quegli anni lì e non è male in realtà come differenza, è una piccola differenza, è una chicca per chi magari ha entrambe le versioni dei Batman. Sinceramente scegliere qual è la mia preferita non ve lo so dire perché questo qui mi piace moltissimo anche se non è fedele con il simbolo dorato, questo qui invece è più fedele con il simbolo giallo, però tendo a preferire questo, non so perché, forse proprio perché mi ricorda lo stile Kenner. Per adesso ragazzi il Batman è esattamente identico, somiglianza c'è, non è impressionante, incredibile, però la cosa diciamo fatta bene è chiaramente l'outfit, il costume è molto fedele e però c'è il fatto sempre del cappuccio che non è tutt'uno con questa parte qui. Per spiegarmi meglio vi faccio vedere come è fatto quello NECA più fedele, eccolo qua, vedete il cappuccio tutto unito, avrebbero dovuto adottare la stessa cosa qui perché questo Batman come sapete nel film non ha l'articolazione al collo e se non lo sapete ve lo dico io, il Batman in quel film si girava così per girare la testa perché non poteva muovere il collo per via appunto del cappuccio della maschera tutta unita qui alla parte del collo. Purtroppo non hanno rispettato questa cosa qui, quelli di McFarlane Toys, si potrebbe risolvere questo problema chissà, magari facendo tipo un collo più largo intercambiabile potrei studiare qualcosa del genere, vedremo in futuro. Comunque questo è il Batman incluso, molto figo, vediamo velocemente le articolazioni che sono ottime, butterfly joint molto molto mobile devo dire, anche al boost hanno fatto un bel lavoro ragazzi, ci sta, ci sta tutto, può praticamente assumere qualsiasi posa possiate immaginare, anche le caviglie, hanno fatto un bel lavoro con questa parte coperta, insomma è veramente un bel Batman, a parte qualche difettino di quelli che ho elencato, veramente può assumere qualsiasi posa, a differenza di quello Nika invece, vedete, c'è nulla assolutamente da dire, mantellino anche bello grande, quindi ci sta, ci sta veramente tanto. Ora, focalizziamoci sulla Batmobile, la Batmobile è quella che avremmo dovuto avere con quella di The Flash, cioè come l'ho modificata io, praticamente customizzandola, è opaca, si sente benissimo anche proprio dal rumore, ma si vede chiaramente un effetto opaco, che ragazzi è proprio quello di cui avevamo bisogno, antigraffio tra l'altro, veramente figo, e per il resto ragazzi è la stessa identica, le ruote fatte molto bene, i dettaglini qui, vedete la parte sottostante ha il logo di Batmobile, quindi è fatta bene anche questa, volendo esporla magari dall'alto, non lo so. Per il resto ha le luci, vedete, aranciate, peccato che non si accendono, non hanno aggiunto assolutamente nulla ragazzi, però la grande aggiunta di farla opaca, per me è tanta roba, le luci dietro sono rosse, e vediamo anche chiaramente che ha il tastino, sarebbe stato figo se avessero aggiunto le mitragliatrici qui, ha il tastino, per chiaramente aprire l'abitacolo, e l'abitacolo purtroppo all'interno è rimasto uguale ragazzi, non hanno cambiato nulla, è rimasto con il pentic argentato come quella di The Flash, vedete, sarebbe stato figo se avessero almeno aggiunto i colori, i colori che aveva nell'abitacolo, quella del film di Barton, tipo giallo, rosso, sui tastini, eccetera, eccetera, è rimasto a monoposto, quindi è esattamente lo stesso prodotto, semplicemente fatto meglio, semplicemente fatto meglio, senza il tettuccio di un altro colore, senza la finitura lucida, ma opaca come dovrebbe essere, ed è una bella Batmobile ragazzi, è veramente una bella Batmobile, non c'è assolutamente nulla da dire, se volete la Batmobile del Batman dell'89 in collezione, e non volete spendere cifre esagerate, per esempio per la Hot Toys, questa è un'alternativa validissima ragazzi, soprattutto con questa finitura opaca che le dà un tocco di, diciamo di lusso si può dire così in più, è fatta bene comunque, poi chiaramente in mano è un plasticone, per carità, ma visivamente devo dire che rende, rende molto bene, ragazzi, la trovate disponibile chiaramente sul mio sito da shop, nel link qui sotto in descrizione, fino all'eserimento a scorte, le scorte stanno per finire perché mi sono rimaste solo due copie, ed è già diventata introvabile praticamente, tra l'altro la tengo al prezzo più basso di internet, ragazzi, un bel prodottino, vi faccio vedere l'ultima cosa, chiaramente per completare la recensione, per completezza, vi faccio vedere come sta il Batman all'interno, tanto non è che dobbiamo andare per forza di fretta, allora, tastino, eccolo qua, per completezza, non sia mai, ed eccoci qua, che calza chiaramente a pennello senza alcun tipo di problema, mantello in tessuto che non impedisce assolutamente nulla, eccolo qua, si posiziona in questo modo qui, calza chiaramente molto molto bene, si può posizionare magari un po' meglio, l'ho fatto abbastanza velocemente, e si richiude il tutto, ed eccolo lì all'interno dell'abitacolo, fierissimo, a guidare la sua Batmobile, adesso è veramente tutto ragazzi, io vi ringrazio sempre per la visione, lasciatemi il vostro parere su tutta questa questione, McFarlane Toys, Batmobile prima, Batmobile dopo, il video è sempre bellissimo, così come anche la condivisione, vi ringrazio come sempre per la visione, ciao da Ara, e quale siete sempre.